E' un grande onore per me avere sul palco probabilmente la migliore sezione ritmica oggi al mondo. Joe Farnsworth e John Webber. Avranno fatto forse 200-300 dischi insieme. Il brano appunto è un blues minore, in un tempo abbastanza strano, che è un 12 ottavi, dedicato a Joe. Il brano appunto è un bel piano. 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 è un bel piano. il brano appunto è un bel piano. il brano appunto è un bel piano. il brano appunto è un bel piano.